Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata della Computer Museo oggi andiamo a vedere un'applicazione WordPad che ovviamente non è da confondersi con il WordPad di Windows normale infatti perché questo WordPad è uno scherzo WordPad praticamente, questo qui che vi farò vedere tra poco è un'applicazione farlocca dell'originale WordPad quindi adesso vi faccio vedere praticamente come funziona qua ad esempio qua dice informazione questo è un WordPad intelligente interpreta tutti i tasti che scrivete con una corretta scrittura praticamente corregge quello che scrivete quindi ad esempio ogni cazzata che scrivo I am come vedete ciao a tutti come vedete sta uscendo una parola e ogni volta che scrivete ovviamente interpreterà tutte le lettere o le parole che scrivete in I am an idiot cioè io sono un idiota, io sono un idiota e così fino all'infinito come vedete come vedete così fino all'infinito poi una volta che voi uscirete vi chiederà se volete salvare ovviamente potete salvare il file questo qui comunque per chi vuole questo scherzo ve lo lascio in descrizione video e ci rivediamo nella prossima puntata della Computer Museo ciao ciao